cari besti di sadhana questo è un video che potete utilizzare come va de me cum perché ormai sicuramente lo sapete ma da oggi proprio da oggi fino al 25 aprile in quel di napoli c'è il napoli comicon e lo sapete sicuramente ma proprio per fare in modo che nessuno si sente escluso io sarò presente tutti e quattro i giorni in quel di napoli a fare un sacco di cose carine sfiziose e coccolose e questo video serve proprio per dare a voi un ulteriore strumento per capire che cosa faccio dove sono perché poi so che un sacco di persone diranno io non sapevo che eri a comicon perché non ce l'ho detto quindi c'è un post qui nella sezione community c'è un post intero su instagram con tutti quelli che sono gli incontri panel quelli che sono le conversazioni i talking about tutto tutte le cose che andremo a fare insieme insieme al comic con e quindi sono qui per fare un breve recap insieme a voi una roba proprio veloce 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 da recarsi alle orecchie per ricordare appunto che sono al comic con e che già proprio da venerdì quindi oggi pomeriggio alle ore 17 c'è un panel c'è una conferenza su berserk con antonio di napoli e con caverna di platone dove parleremo di kentaro miura dove parleremo di berserk dove parleremo di questa opera meravigliosa quello che ci ha lasciato quello che continuerà a lasciarci nel corso degli anni e quindi insomma sarà una cosa molto molto bene vi ricordo sempre come c'è scritto anche qui dalle infografiche che la quasi totalità degli incontri sarà all'asian village presso la sala meeting roba quindi ricordatevi questa cosa perché fondamentalmente mi troverete tante volte lì e poi io sarò in giro a cazzeggiare a parlare con tutti quanti voi dopodiché sabato 23 aprile alle ore 13 sempre la sala meeting roba c'è una conferenza sulla storia dei manga insieme al buon kirio quindi una cosa molto bella io e maurizio vi racconteremo e faremo una fare una sorta di excursus della storia del fumetto giapponese dalle origini fino ai nostri giorni per la sua contentezza perché poi se parla pur di tezuka e lui sarà tutto lì bello felice a farsi raspone a quattro mani sempre sabato e 23 aprile sempre la sala meeting i roba ma questa volta alle ore 15 c'è invece un bel incontro con i ragazzi di star comics ci sarà christian posocco ci sarà renato franchi ci sarà caverna di platone ci sarò io chiaramente il tutto moderato da alessandro falciatore ironic di anime click e cercheremo fondamentalmente di ripercorrere attraverso la storia di star comics come è nata cresciuta e si è evoluta la realtà del mondo dei manga in italia soprattutto tenendo conto di questi ultimi 30 anni più di 30 anni dove ecco il mondo dei manga ha gettato un semino e poi è continuato a crescere fino a trasformarsi nella foresta in cui ci troviamo amabilmente tutti quanti dopodiché si passa domenica domenica 24 aprile sempre all'asian village ma in questo caso al music dojo alle ore 12 in compagnia di michele mari mitico professore con però la partecipazione anzi la supervisione sempre di star comics presenterò per far ridere questa cosa va bene il one piece quiz ci saranno delle domande cattivissime ma chi vincerà vincerà una cosa bella che ancora non vi posso dire sarà divertente quindi venite perché ci divertiamo perché vi farò delle domande stronze e non vedo l'ora perché sarà divertente sempre domenica 24 aprile alle ore 14 si ritorna in sala meeting i roba ci sarà un incontro in questo caso con j pop ci sarà chirio ci sarà caverna di platone ci sarà j pop chiaramente ci sarò io il tutto ancora una volta moderato da alessandro facciatore di anime click e con gli amici di j pop faremo un discorso diverso rispetto a quello fatto con star comics perché cercheremo di capire insieme a quello che dal mio punto di vista è forse diventato l'editore più eclettico di manga in italia qual è il gusto dei lettori dei manga in italia tenendo conto delle cose che pubblicano chiaramente loro perché j pop ha uno dei dei cataloghi veramente più variegati ed eterogene che spazia dai classici a perdonatemi il termine alle shonen giampate più becere ai fumetti più mainstream ai fumetti poi in realtà più alti e colti in assoluto penso per esempio a showa non avrei mai pensato di leggere showa in italia invece j pop lo ha portato e quindi era interessante provare a capire secondo chiaramente l'editore ma anche secondo noi che siamo fruitori prima ancora che direbbe dire termine critici ma lettori ecco come è cambiato come cambierà e qual è effettivamente il gusto del lettore standard di manga è una cosa interessante poi alle ore 15 sempre domenica 24 aprile sempre in sala meeting i roba c'è il la conferenza l'incontro il panel di festeggiamento del volume 100 di one piece l'incontro sarà tenuto con star comics quindi ci sarà cristian posocco ci sarà claudio a calzuola ci sarà il re ci sarà quindi gabriele bertoloni ci sarà francesco toscano vero toski quindi c'è bike and raft c'è one piece punto it e qui mi permetto di dire avrò io l'onore di gestire fondamentalmente questo incontro moderare questo incontro che cercherà di andare un attimo sul viale dei ricordi e dei feels per festeggiare degnamente questo traguardo che one piece ha tagliato con il volume 100 e per cercare di capire com'è stato da lettore giustamente ma anche da editore avere a che fare con quello che è diventato non solo uno dei manga più iconici della storia del fumetto giapponese ma il fumetto più venduto della storia di tutti i tempi e quindi cercheremo insomma insieme all'editore insieme a chi si occupa di one piece tutti i giorni ma soprattutto insieme a voi proveremo un attimo a capire a carpire i segreti di questa roba bella e sfiziosa poi lunedì 25 aprile alle ore 14 sempre in sala meeting roba quindi il giorno dopo c'è il panel su one piece dedicato però in questo caso alla community di one piece festeggeremo insieme a toski e reverendo al mala belli e rare sottoscritto a tutti voi e a tutti voi i 25 anni di one piece e quando dico tutti voi dico davvero tutti voi perché se una prima parte dell'incontro sarà dedicato a cercare di capire tutti quanti insieme qual è il nucleo portante di one piece attraverso quelli che per ognuno di noi è la tavola o la splash page più emblematica dell'intero 25 annale di one piece e che rappresenta pieno i 25 anni di one piece la seconda parte sarà interamente dedicata a voi perché vorremmo lasciare la parola libera a voi quindi diventerà davvero una sorta di q a fatta dal vivo quindi invece di fare una sorta di one piece live night come facciamo sempre diventa sul serio una one piece night live ma dal vivo dal vivo e quindi io prendo un microfono vengo in giro a voi vi lascio il microfono e voi fate tutte le domande che volete quindi io non vedo veramente l'ora non vedo veramente l'ora di vedervi tutti quanti al comic con oggi quindi adesso nel momento in cui partirà il video io già starò per napoli a fare così spera mai dire mai questi casi ma dovrei essere a napoli in questo momento mentre voi vedete il video quindi vi aspetto tutte queste cose tutte queste belle robine simpatiche e sfiziose e per coloro che non verranno io avevo detto che dovete comprare il biglietto del comico perché non mi siete stati a sentire male 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 la prossima volta mi sta da sentire e quindi poi venite anche voi e vi aspetto non vedo davvero l'ora ciao